Ciao a tutti amici di Focus Tech e benvenuti alla nostra recensione della Panasonic HTB700 una soundbar dalle grandissime prestazioni commercializzata con un subwoofer credo di collegarsi wireless alla stessa in questo modo quindi l'utente sarà obbligato a collegare fisicamente solamente la soundbar al televisore e il subwoofer si collegherà via wifi, via wireless a quella che è la soundbar stessa le prestazioni di questa soundbar sono sicuramente molto elevate sebbene comunque non sia la soundbar di fascia alta commercializzata nel corso del 2019 perché l'HTB700 è e rappresenta la fascia media delle soundbar di Panasonic in quanto il top di gamma è l'HTB900 le sue prestazioni come abbiamo detto sono buone ma scopriamola da vicino conosciamo le dimensioni e tutte le sue funzionalità dopo la nostra sigla il Panasonic HTB700 è un sistema audio composto da una soundbar e un subwoofer questo è in grado di collegarsi wireless alla soundbar la quale va fisicamente collegata al monitor o meglio alla televisione le dimensioni parlando della soundbar sono effettivamente notevoli parliamo infatti di 105 centimetri per 7,8 centimetri di altezza e uno spessore di circa 13 centimetri con un peso complessivo di 4,5 Kg essa è realizzata interamente in plastica con una copertura in tessuto che ricopre il display a matrice anteriore in modo che la potente struttura vada in un certo senso a ridurre le vibrazioni emesse nel corso della riproduzione audio lo stesso discorso vale per il subwoofer questi presenta una struttura realizzata interamente in legno con rivestimento superiore in plastica anch'esso ottimizzato proprio per ridurre le vibrazioni le dimensioni non sono particolarmente elevate in quanto parliamo di 180 mm x 408 x 306 mm con un peso complessivo di 5,4 Kg la potenza complessiva del sistema audio è veramente interessante in quanto raggiunge addirittura i 376 W di cui i soli 250 W sono realizzati dal subwoofer la barra presenta 3 altoparlanti da 42 W l'uno quindi con un complessivo di 126 W circa per i canali destro, sinistro e centrale gli speaker sono full range da 6,5 cm a cono con bass reflex per altoparlanti laterali la gamma delle frequenze è stata aggiornata in modo che non solo i bassi sono riprodotti dal subwoofer ma vanno a essere riprodotti in parte anche dalla soundbar e il telaio soprattutto nella parte centrale è stato appositamente realizzato a nido d'ape come abbiamo detto per renderla più stabile e fare in modo che senta meno le vibrazioni ed eviti quindi di peggiorare la riproduzione audio vera e propria parlando di connettività noi abbiamo sicuramente tutto quello che vorremmo trovare su un dispositivo di questo tipo quindi 3 HDMI di cui una ARC e 2 HDMI in compatibili 4K con ingresso digitale ottico connettività wireless con bluetooth in modo da poter trasmettere l'audio direttamente alla soundbar e utilizzarla come uno speaker esterno per lo smartphone e una porta usb per l'aggiornamento software in quanto la soundbar non si collegare a rete ma se dovete effettuare un aggiornamento software caricherete il firmware sulla penna usb e poi la andrete a collegare fisicamente sulla parte superiore sono presenti i tasti a sfioramento non sono tasti fisici e non presentano led particolari il suo funzionamento prima di tutto è gestito da un telecomando come vedete è molto piccolo e molto semplice da utilizzare il tasto di accessione e spegnimento la possibilità di scegliere da quale input trasmettere attivare il bluetooth per il pairing con il dispositivo esterno volume e naturalmente quelli che sono i settaggi base infatti vi faccio notare due cose prima di tutto vedete che il display è molto piccolo è a matrice quindi non è retroilluminato ma si vede tranquillamente sia con luminosità artificiale che ad esempio ha il buio completo non troppo ma è abbastanza sufficiente e andando in setup andando in sound posso scegliere e muovermi all'interno del menu in particolare io posso postarmi prima di tutto dalla modalità tv che è la modalità standard nel momento in cui voi avete collegato la soundbar al televisore regolerete tutto tramite il telecomando del televisore la soundbar si accende in automatico quando accendete il televisore e così via il volume viene regolato direttamente dal televisore però se io ad esempio vado in sound mode ho quattro preset che variano l'equalizzatore in relazione a quella che è la necessità noi ad esempio abbiamo lo standard possiamo andare in stadium per gli eventi sportivi music per la musica o naturalmente cinema nel momento in cui attiviamo una riproduzione di un film molto interessante è la modalità 3d soundround in quanto in particolare noi abbiamo la possibilità di sfruttare anche tutta questa parte in modo che i driver posizionati anteriormente vadano a creare un effetto soundround che cerchi nonostante sia un sistema 3.1 di canali vada a rendere l'idea di un home soundround a più canali non è naturalmente lo stesso risultato dell'home cinema 5.1 ma devo dire offrire un buonissimo risultato e un buonissimo esito complessivo proseguendo nella modalità sound io trovo anche subwoofer in quanto il subwoofer non può essere regolato moltissimo ma posso scegliere sostanzialmente quello che è il livello dei bassi spostandomi da 1 a 4 non ho altre possibilità di equalizzazioni mentre CLR dialog permette di migliorare la resa nei dialoghi e con la funzionalità low volume mode va a sostanzialmente valorizzare i dialoghi a basso volume nel senso che nel momento in cui voi utilizzate il dispositivo alla sera e tenete un volume basso lui va a valorizzare i dialoghi e non vi causerà particolare fatica nell'ascoltare i dialoghi troviamo inoltre la piena compatibilità con DTS-X e naturalmente Dolby Atmos qui posso scegliere le varie modalità in dual audio e come vedete ho poco altro ora non ci resta che provare a sentire la qualità di riproduzione per collegare uno smartphone io posso premere il tasto bluetooth lui va in bluetooth e attiva il pairing io mi posiziono sul mio smartphone cerco la soundbar la trovo in tempi rapidissimi e nel momento in cui io l'ho trovata posso andarmi a collegare per la trasmissione audio mettiamo il volume al massimo si è potuto quindi sentire che la potenza è davvero molto ma molto interessante se noi ad esempio proviamo a riprodurre quello che è un contenuto dalla nostra televisione che può essere ad esempio una semplice riproduzione sul canale Rai sentite come la qualità sia buona perché l'audio è ottimo si sente molto bene il dialogo e chiaramente in questo caso il subwoofer torna praticamente inutile perché non dà quel risponso o quell'audio in più che noi effettivamente troviamo ad esempio nel momento in cui andiamo a riprodurre un contenuto ad esempio su youtube vi faccio ad esempio sentire quale che è il solito Dolby Digital con il subwoofer acceso va acceso fisicamente tutte le volte che lo si vuole utilizzare altrimenti non verrà aggiunto ma sentite la qualità è potentissimo e siamo sostanzialmente a circa 50% di potenza su 100% la qualità del dettaglio è davvero molto interessante il subwoofer si fa sentire noi chiaramente adesso l'abbiamo messo al massimo e come risultati devo dire è rimasto veramente colpito proprio dalla qualità di quello che è il risponso che questo sistema è in grado di offrire nell'utilizzo sia di tutti i giorni sia naturalmente in riproduzioni con un audio prestabilito ad esempio vi faccio risentire un nostro pezzo sentite che la qualità è comunque buona anche in un video standard l'ultimo test che vi faccio sentire riguarda la riproduzione di un video con audio a 5 canali lui verrà ridotto a 3 in particolare parliamo di un film e sentite in tutti i casi qual è la grande qualità generale far più musica sentite per ultimo nel menu setup noi troviamo la possibilità di scegliere la luminosità del display a matrice allo stesso modo possiamo andare a modificare o comunque installare l'aggiornamento software resettare il dispositivo o naturalmente attivare il viral link che è caratteristico di tutti i Panasonic il link mode scegliere quale modalità utilizzare per finire poi in quello che è eventualmente un risponso audio la limitazione al volume con anche la possibilità di scegliere la standby mode nel momento in cui lui dovesse restare in standby per un determinato intervallo di tempo si disattiverà in automatico in conclusione l'HTB700 è sicuramente una soundbar dalle grandi prestazioni e soprattutto dalla grandissima potenza prima di tutto infatti ci ha sorpreso e ci ha colpito la potenza in grado di raggiungere questa soundbar perché la combinazione di soundbar più subwoofer porta addirittura 376 watt se ad esempio consideriamo una music cast 400 di Yamaha in grado di raggiungere soli 200 watt in combinazione soundbar più subwoofer capite effettivamente quale è che è la potenzialità e la potenza di questa combinazione gli aspetti positivi sono davvero tanti infatti il livello del dettaglio la qualità del suono e la potenza generale portano sicuramente l'utente a voler spendere circa 400-500 euro per il suo acquisto andando anche a non considerare quelli che sono gli aspetti negativi infatti sono veramente pochi in quanto l'unico aspetto da prendere in considerazione personalmente ritengo essere la dimensione purtroppo la soundbar è veramente molto grande molto ingombrante il che va a portare l'utente ad avere necessità di tanto spazio a disposizione per il suo posizionamento quindi nel momento in cui voi vorrete acquistarla tenete presente che servirà davvero tanto spazio e non potrete inserirla in ambienti o in superfici troppo ristrette altrimenti la televisione non ci starà ricordiamo inoltre che l'effetto 3D surround è veramente molto buono come nel caso della televisione anche qui noi abbiamo gli altoparlanti driver tutti posizionati nella parte anteriore ma riesce a creare un effetto soundround attivandolo naturalmente dal menu come abbiamo visto nella recensione in grado di creare un effetto tridimensionale che porta l'utente a non raggiungere naturalmente il livello dell'home Tadar 5.1 ma comunque di sentire un suono avvolgente con risultati molto ma molto interessanti nel complesso io questa HTB 700 sicuramente la comprerei perché riesce a garantire una qualità molto ma molto elevata peccato solamente per le dimensioni sono un po' troppo elevate e ad esempio in casa mia non riuscirei a farcela stare se il nostro video vi è piaciuto vi invito a mettere un mi piace qui sotto naturalmente iscrivetevi al nostro canale e attivate la campanellina delle notifiche